Mi è stato riferito che c'è un'indicazione nominativa del sottoscritto tra i possibili nomi che possono essere individuati come candidato governatore della regione Puglia. Questo mi riempie d'orgoglio, una gratificazione per l'attività svolta dal sottoscritto e di tutta l'amministrazione, ma credo che sia anche una gratificazione per tutti i sindaci che molto spesso sono in trincea, sono al front office delle istituzioni e oggi forse si rendono conto del grande impegno che hanno le istituzioni locali nel panorama politico nazionale. Attendiamo con fiducia, con serenità e con umiltà le valutazioni che farà il presidente Berlusconi e il tavolo nazionale rispetto all'indicazione dei nomi che sono sul tavolo per affrontare una campagna elettorale che chiaramente deve consentire alla Puglia di poter ritornare a essere governata da un elettorato moderato, da un governo moderato e anche e soprattutto confrontarci su temi e contenuti che hanno lasciato in alcuni casi i pugliesi molto scontenti rispetto alle politiche che sono state attuate e credo che su questo bisogna intervenire con un'inversione di rotta e un rinnovamento che non è solo di persone ma anche, ripeto, di temi e contenuti. Ringrazio per le parole che sono state espresse nei miei confronti e chiaramente che ricambio allo stesso modo nei confronti di tutti coloro che possono essere potenziali eventualmente scelti nella corsa come candidato governatore. È chiaro che noi siamo uomini di partito, siamo a servizio di un partito, di una coalizione, nell'ipotesi in cui ci dovessero essere delle scelte che ricadono su una persona. Si tratta di persone tutte che hanno la loro personalità e la loro professionalità. L'importante è ritrovare l'unità perché credo che la regione Puglia possa ritornare a essere governata dal centro-destra a tutti i presupposti perché la Puglia è una regione di moderati, è una regione dove c'è la necessità di invertire certe politiche che sono state attuate fino ad ora e abbiamo anche le idee chiare di come poter fare un programma che possa consentire pugliesi di metterci alla prova.